e now girls and boys che vuol dire adesso ragazze e ragazzi baby show international che vuol dire baby show international a voi londra brutta macchinaccia mi lasci sempre a piedi quando ho bisogno di te ma è possibile succede sempre così poi c'è freddo che bella ehi questa la riconosco ciao grazie ciao ragazzi bambini bambini sono sempre io altri del davy show e sono qua guardatemi in giro dentro una macchina che non ci sono mai stata vendita niente sono dentro una limousine guardatemi sulla sinistra con le banana rama ci ha pensato sana perché il primo singolo che hanno fatto era stato fatto in swahili e hanno pensato che banana è un nome molto tropicale poi hanno guardato sul libro era uscito fuori il nome pigiama rama hanno messo le due cose insieme ed è saltato fuori banana rama and you didn't argue with that you like that anche piaciuto questo non è abbastanza imbarazzata però è lo stesso ha lasciato fare i don't normally wear makeup i don't feel i need it being a natural beauty un solitano mi metto in makeup perché sono molto bella così al blocco naturale i always wear it i never go out of the house without it invece lei se lo mette sempre perché i wear it all the time e qual è il vostro mangiare preferito you have to be a vongole i think oh le vongole strano strano che è con le vongole solo dicono spaghetti non lo so dicono lasagne i'm very much like italian food i don't like red meat i don't like red meat i called Sarah making a cottage pie the other day she's lying dice che mangia la carne rossa invece lei dice gli piace molto la carne rossa e dice che la carne non gli piace it's no big deal dai no no è arrabbiata non vuole che si dira che le piace la carne all the time have done since we were five years old Oh, da quando hanno cinque anni che girano insieme, ma non vi stancate mai? Non è vero, perché credo che siamo molto diversi personalità. Io sono la bossa e Karen è la calma. Ok, no, perché ci siamo molto diverse come personalità. Lei è molto bossi e è molto riservata. Do you think that sounds better than lazy? Lazy, sì. Dire calma, non pigra. E allora, qual è la vostra canzone preferita? I think I heard a rumor I enjoyed doing. I heard a rumor? That was the first time we used male dancers. Che è la prima volta che hanno usato uomini ballerini. Probably Venus, perché Venus was the first video I felt we did where where we actually got our ideas across. Before that, somehow the directors seemed to miss the humor or whatever we were trying to get across. That was the first time it worked. Come video, diciamo Venus, perché è il primo video che abbiamo fatto, che abbiamo dovuto usare le nostre idee, perché di solito, sai, non devono arrivare dei compromessi. Quindi sì, si sono divertite molto, dovete molto fare il Venus. A Venus a me piace tantissimo. We have to say ciao a tutti, ai bambini in Italia. Ciao a tutti. Ciao a bambini. Ciao, ci vediamo. Ciao a bambini. Ciao. Ciao a bambini. Ciao a bambini. Ciao. Ciao. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao da bambini, ciao, ciao anche da me da Artemis. Felicissima ragazzi. La limousine per la prima volta. Sto da più. Buon 1993. A tutti buon anno.